Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 5 km di coda per operazione di ripristino e incidente verso nord tra Arezzo e Valdarno, sempre in A1 con i attratti verso nord per traffico intenso tra B1-11 e B1 variante. Rallentamenti verso Bologna per veicolo fermo e navaria anche tra Barberino e Aglio. E arriviamo in Fipili, coda per incidente verso Pisa tra Cascina e Navacchio, sullo stesso tratto in carreggiata opposta, coda ad un chilometro per lavori. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale, a Torino e Toscane informa che per sciopero nazionale lunedì 24 luglio il servizio non sarà garantito dalle 17.45 alle 21.45. Sono coinvolti i servizi urbani ed extraurbani di Firenze, Pistoia, Prato, Lucca, Massa e Livorno. Muoversi in Toscana e Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!